ed infatti con decreto interministeriale del 6 settembre 2012 è stato approvato lo statuto dell'Agenzia che costituisce il fondamentale presupposto per l'operatività di tutti gli organi. Inoltre il regolamento di organizzazione e la relativa dotazione organica già deliberato dal Consiglio di Amministrazione è in avanzata fase di approvazione e sarà varato entro pochi giorni. Anche la procedura di selezione del personale è stata completata ed è imminente la pubblicazione della graduatoria che consentirà l'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse umane alla nuova Agenzia. Il Ministero si sta impegnando infine a provvedere al trasferimento definitivo delle risorse finanziarie al nuovo ente seppure sussistano alcune rigidità legate al passaggio dal precedente regime all'attuale. Ci stiamo comunque adoperando per risolvere tale ultima questione anche se del caso attraverso un'apposita previsione normativa. Anche la replica è affidata all'onorevole Polidori. Prego. Ringrazio il Ministro per la puntuale risposta e apprendo con soddisfazione che quindi a breve saremo in grado di recuperare il ritardo determinato proprio dalla Costituzione dell'Agenzia. Dopo la chiusura, oltre l'anno fa, è un comprensibile disorientamento delle imprese orientate all'export grazie agli Stati Generali del commercio con l'estero. Conseguito personalmente, tutti gli imprenditori, indipendentemente dai settori, hanno sottolineato come quello strumento, seppur non perfetto. Quindi, ovviamente, perfettibile fosse l'unico strumento, grazie soprattutto alle alte competenze degli impiegati dell'ex ICE, fosse l'unico strumento che permetteva loro di affacciarsi ai mercati esteri. Noi, signor Ministro, avevamo una macchina, obiettivamente una macchina vecchiotta e che probabilmente consumava molto, ma abbiamo lasciato gli imprenditori letteralmente a piedi, senza neanche una bicicletta. In un momento come questo, e lei sa meglio di me che è un momento particolarmente difficile, dove l'export rappresenta, nonostante una leve flessione avuta adesso per la crisi cinese, l'unica voce positiva dell'economia italiana, ritengo che l'impegno, come lei peraltro mi ha confermato, debbe e dovrà essere massimo per fare in modo di riuscire tutti insieme ad esportare ciò che il mondo ci invidia, il nostro Made in Italy. È la volta dell'interrogazione numero 3.2556 dagli onorevoli Dozzo ed altri, concernenti intendimenti del Governo in merito alla ipotesi di sopprimere i contributi statali alle imprese al fine di reperire risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale sulle aziende. L'onorevole Buonanno ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie, signor Presidente. Buongiorno, signor Ministro. Ci rivediamo dopo gli stati generali di Torino, dove lei è stato nostro ospite e gradito. Siamo qua per richiedere e rifare la stessa domanda che abbiamo fatto a Torino, e cioè in questo Paese dove oggi abbiamo avuto l'ultima notizia non certo bella e invidiabile. Grazie.